Gentili telespettatori, buona giornata. Vi racconto della profonda riflessione del Partito Democratico. Sì, hanno riflettuto e hanno esternato il loro pensiero, che è già tanto che abbiano un pensiero. Adesso vi racconterò qual è il loro leggendario pensiero. Ascoltate bene. Dicono, per Fratelli d'Italia, la RAI è al servizio di chi vince le elezioni. Ma davvero? No! È uno scoop questo! La RAI diventa al servizio di chi vince le elezioni! Ma questa è una rivelazione di quelle. Mi si è illuminata in fondo al tunnel, ho visto una luce. Davvero! La RAI è uno strumento da sempre di propaganda per i governi che vincono le elezioni. Chi vince le elezioni si impadronisce della RAI, mette i suoi dirigenti, mette i suoi conduttori televisivi, si impadronisce dei telegiornali. E così è sempre stato. Sempre. Sempre. E sempre. Oggi il PD ci viene a dire, per Fratelli d'Italia, al servizio, la RAI è al servizio di chi vince le elezioni. Eh? Non ditelo nessuno, eh? Lo sapevate? Caspiterina! Irene Manzi dice, qui non si tratta più di semplicemente spoil system, ma del tentativo di forzare il cambiamento di modelli culturali. Cosa sta dicendo sta signora? La RAI è sempre stata in mano alla sinistra, e mo' arrivano questi e ci vogliono forzare il cambiamento di modelli culturali. Cioè, si permettono di vincere le elezioni e di voler cambiare anche la narrazione nella RAI. Pensate un po'. Mica mi vorranno togliere Fedez che strappa le foto, che grida le cose. Mica mi vorrete togliere Benigni, eh? O quella che dice che siamo razzisti. È così bello una RAI di sinistra che ci racconta tante belle cose e denigra il nostro paese. Mica vorremmo forzare il cambiamento di modello culturale nella RAI. È proprio così, cara signora Irene Manzi. Eh, se ne faccia una ragione. Il centrodestra ha vinto le elezioni e ha tutto il diritto, tutto il diritto di cambiare, di impossessarsi della RAI, che è la televisione di Stato, servizio pubblico. Quelli che lavorano in RAI sono dei dipendenti pubblici, ricevono lo stipendio dal governo e che è il datore di lavoro. Sì, non è un modo di dire. Il governo, che è quello che ha il conto economico, che gestisce i soldi dello Stato, il governo è quello che paga gli stipendi. Alla polizia, ai carabinieri, all'esercito, alla guardia forestale, alla guardia costiera, ai vigili urbani, ai politici e alle aziende di Stato, come la RAI. Quindi il governo ha tutto il diritto, quando arriva, come cambia i vertici di tutte le aziende, parastatali o statali, tutti i vertici vengono cambiati, a meno che il governo non li voglia cambiare per dire, no, no, va bene quella persona, lasciala, mi piace quella persona. Il governo ha tutto il diritto di cambiare i vertici della RAI, che si chiama spoil system, come tutti i vertici delle aziende statali o delle strutture statali. Eh sì, ditelo alla signora che queste regole valgono non solo per i sinistri, ma anche per i destri. E mi è piaciuta questa. E così l'attacco ai vertici RAI da parte di Fratelli d'Italia, dice la signora, è inquietante nel merito e nel metodo. Cioè, sta dicendo, lasciateci il controllo sulla RAI. Cos'è che adesso questi vincono le elezioni e vogliono cambiare i modelli culturali nella RAI? Ma come si permettono? Eh signora, si chiama democrazia. Democrazia? Ma se lo fa la destra sono dei dittatori. Se lo fa la sinistra è giusto, chiaro, ovvio che se uno vince le elezioni mette il direttore di telegiornale che è favorevole al centrodestra. No, se vince la sinistra è giusto. Se vince la destra sono dei mezzi dittatori, anzi togliamo il mezzo. Si chiama, cara signora, democrazia. La democrazia dice che quando arriva un governo si prende il possesso anche della RAI, televisione di Stato, strumento principale di propaganda di chi governa. È così. È la vita, signora, è così. Mi spiace che nessuno glielo abbia mai detto che fino all'altro giorno è stato così. Eh sì. Ma lei dice al contrario che la libertà editoriale è la forza dell'informazione, è la libertà di espressione un cardine della nostra democrazia. Però fino a ieri non era un cardine. Diventa oggi un cardine la libertà della RAI? Cioè quando governa il centrodestra la RAI è libera. Quando governa il centrosinistra la RAI diventa di possesso del centrosinistra. Ebbè è una bella dimostrazione di democrazia a questa. Eh sì. Proprio bella dimostrazione di democrazia. E poi aggiunge la signora, non vorrei che la premier Meloni e la sua classe dirigente volessero reprimere entrambi, cioè libertà editoriale ed espressione, nel nome dell'affermazione di un'egemonia culturale che non si costruisce a colpi di epurazione. È certo che si fa così. È certo. Se la RAI è stata terreno di conquista della sinistra negli ultimi 10-11 anni e oggi si cambia per affermare un'altra egemonia culturale venuta fuori dalle elezioni. Eh sì. Ma lei dice hanno già occupato i tigirai in modo che non ha precedenti. Non ha precedenti. Vogliamo andare a vedere i precedenti, cara signora? Perché bisogna parlare e dire queste cose? Adesso pensano di mettere il bavaglio agli artisti. Ma guardi, cara signora, io uno come Fedez, che sia di destra o di sinistra, non lo farei più andare in RAI. Mai più. Mai più. Quindi non c'è nessun bavaglio agli artisti. L'artista deve cantare la canzone. Se è un pittore deve pitturare un quadro. Se un regista vi fa un film. Ma il cantante che mi va a fare politica al festival di Serremo strappando le foto dei politici non c'entra a bavaglio. È completamente fuori luogo. Non ha senso. Allora chiunque mette piedi in una trasmissione indiretta può dire quello che vuole. Cioè a me mi invitano domani in RAI, in una trasmissione indiretta, e io vado lì e dico di quelle cose... c'ho la libertà di espressione. Ah sì? Quindi chiunque va in una trasmissione indiretta può dire quello che vuole. Qualunque cosa, perché vuoi mettermi il bavaglio alla persona invitata, certo che gli metto il bavaglio. In una trasmissione di un certo tipo non dici certe cose. Però, insomma, fatto grave, dice la signora. È il fatto grave che siamo stati governati dalla sinistra per undici anni. Quello è il fatto grave. Altro che impadronirsi della RAI, che è giusto. Arrivederci a tutti e grazie.